Una conference veramente dei record, l'interesse sull'Italia sta crescendo, si sta consolidando, l'interesse sulle small e mid cap è molto importante. C'è un po' di effetto peer, piano individuale di risparmio e nuovi incentivi fiscali introdotti recentemente dal governo che stanno stimolando l'interesse su questo cluster di aziende, upside, atteso da parte degli investitori internazionali. Siamo quotati su Borsa Italiana da circa due anni, abbiamo anche pensato bene di cambiare recentemente il brand da Barzai a I-Price e quindi ci siamo ripotati in qualche maniera. Incontriamo attraverso Borsa Italiana un significativo numero di investitori sia italiani che stranieri. In questi due giorni circa 20 incontri con diversi investitori di taglie differenti. Arrivano con mille domande, con confronti con i nostri peers in giro per il mondo e ci stimolano naturalmente a innovare, ad essere sempre più veloci nel raccontare la nostra acquisti storia, con trasparenza e con una comunicazione periodica ed efficace. Abbiamo aumentato in modo importante la liquidità del titolo, abbiamo più che raddoppiato la presenza degli investitori stranieri, siamo andati oltre il 20%, la visibilità dell'azienda e del titolo è aumentata molto e devo dire anche il livello degli incontri è estremamente stimolante. La qualità delle domande si capisce che dall'estero c'è interesse sempre maggiore verso questo tipo di segmento, verso le aziende che ne fanno parte.